Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Come vedete dal titolo, quello di oggi è un video recensione, che con ogni probabilità è una delle recensioni più richieste sul mio canale da un po' di tempo a questa parte. Parlo di anni, effettivamente. Nel corso del tempo moltissimi di voi mi hanno chiesto una mia recensione, appunto, una mia opinione sulla saga di Malazan dei Caduti di Steven Erikson, una delle saghe forse più amate, rinomate e conosciute in tutto il mondo per quanto riguarda il fantasy, che anche in Italia ha una sua agguerritissima nicchia di lettori. E finalmente, dopo che questo primo volume è stato per anni su un mio scaffale della libreria, ecco, finalmente ho raccolto tutto il mio caraggio e ho cominciato questa nuova avventura. Quindi questo video, ovviamente, finalmente, dopo tantissimo tempo, ne andremo a parlare insieme. Come sempre, due piccole e velocissime premesse. La prima è quella più ovvia. Ovviamente, come in ogni mio video recensione, anche questo sarà privo di qualsiasi spoiler. Quindi, se conoscete e avete letto la saga di Malazan, potete vedere questo video, partite semplicemente avvantaggiati e ascolterete quella che è la mia recensione, la mia umilissima opinione dopo aver cominciato a leggere questa saga. Se invece non avete mai letto o non conoscete minimamente ciò di cui andremo a parlare, ecco, potete tranquillamente continuare a vedere questo video, anzi, magari vi aiuterà a capire se può o meno far per voi, di cosa stiamo parlando e se può, appunto, interessarvi. Anzi, direi proprio di cominciare da questo. Mi rendo conto che per molti lettori, entrare nel mondo, anzi, nell'universo di Malazan, perché effettivamente stiamo parlando di questo, praticamente di un universo espanso, potrebbe spaventare e portare a diversi dubbi. Magari, cercando su internet, vi capiterà di vedere diverse saghe scritte da diversi autori ambientati, appunto, nel mondo di Malazan. Per questo motivo ho deciso di raccogliere delle informazioni basilari, proprio minime, per darvi un attimo un contesto, se davvero effettivamente non conoscete ciò di cui stiamo per parlare. L'idea dietro Malazan nasce dalla mente di due autori. Il primo è, ovviamente, Steven Erikson, che è l'autore della saga di cui andremo a parlare fra pochissimo, e il secondo è Hasselmont. Inizialmente, la storia di Malazan era stata pensata come un gioco di ruolo stile Dungeons & Dragons. Anzi, si dice addirittura che prima di arrivare alla sua versione cartacea, i due autori abbiano proposto una sceneggiatura per farne una serie tv o un film, ma che alla fine la proposta sia stata rifiutata. E a questo punto i due autori, Erikson da una parte e Hasselmont all'altra, decidono di separarsi, di prendere strade diverse, rimanendo sempre all'interno del mondo e dell'universo di Malazan, ma raccontando la storia, anzi le storie, da punti di vista diversi, con personaggi diversi e ambientazioni diversi, ma comunque, appunto, sempre all'interno di questo grandissimo e ampissimo universo. Come capirete, nel corso degli anni, sia Erikson che Hasselmont hanno scritto una valanga di saga ambientata all'interno di questo mondo. Quindi, per molti, potrebbe esserci il dubbio da cosa bisogna iniziare, come posso entrare all'interno del mondo di Malazan. E effettivamente la risposta è, da una parte forse banale, e dall'altra appunto molto ovvia, tutti potrebbero arrivarci, la risposta iniziare proprio dalla saga di Malazan de Gatuti, scritta da Steven Erikson. Questo primo libro, Giardini della Luna, pubblicato nel 1999, poi di seguito e tutti gli altri, che è composta da dieci volumi e che è effettivamente l'unica saga disponibile anche in Italia, pubblicata da Armenia. Questi dieci volumi iniziano e finiscono una saga, sono, diciamo, la storia principale all'interno del mondo di Malazan, ma di conseguenza ci sono poi tantissimi prequel, sequel, scritti sia da Erikson che da Esselmont. L'unica altra saga, diciamo il sequel, di questa qua che sta cominciando ad essere pubblicata in Italia è la Witness Trilogy, ma tutto il resto, tutti gli altri libri scritti da Erikson e da Esselmont, purtroppo non sono disponibili in Italia. Ma comunque è da questo libro che bisogna iniziare. E adesso passiamo alla seconda premessa, perché non sono finite qua. Molti di voi, prima di iniziare a leggere Malazan, mi avevano avvertito che questo primo libro, I Giardini della Luna, poteva essere molto difficile da digerire. Per questo motivo, dopo anche aver letto questo primo volume, ho deciso di continuare a leggere anche il secondo, la Dimora Fantasma, prima di farmi un'idea un po' più definitiva, diciamo, e di parlarvene, ovviamente, per farmi una recensione. Quindi leggere questo secondo volume, effettivamente, mi ha dato modo di farmi un'idea più compatta, un pensiero, diciamo, un attimo più ordinato rispetto a quello che penso nei confronti della saga di Malazan. Ovviamente ho letto solamente questi primi due volumi, quindi la mia recensione e il mio parere rimane, in qualche modo, ancora tutto da costruire e può cambiare nel corso del tempo. Detto questo, direi di partire effettivamente con la recensione vera e propria, quindi di che cosa parla Malazan. E mi rendo conto che è molto difficile fare un riassunto e dare un'idea, diciamo, definitiva e coerente di ciò che troverete all'interno di questo libro. È davvero molto complesso, quasi impossibile. Con la saga di Malazan si seguono tantissime storie diverse, tantissime trame e sottotrame, e allo stesso tempo facciamo la conoscenza di tantissimi personaggi diversi che si rendono protagonisti di scenari e dinamiche estremamente variegate che di conseguenza ne aprono tantissimi altri, senza contare che la storia dietro Malazan va a coprire un arco temporale davvero molto, molto importante. Quindi più che raccontarvi di una trama vera e propria, con Malazan si parla di un contesto, è da lì che bisogna partire. Il contesto e la premessa da cui bisogna partire è quella di un impero, quello di Malazan, in cui si susseguono conflitti e guerre continue per la conquista di territori. L'impero di Malazan è in continua espansione e a guidare queste battaglie sanguinose e distruttive c'è l'imperatrice e la Senna, una donna che sta letteralmente cambiando e rivoluzionando lo scenario e che grazie all'aiuto di potentissimi maghi, abili strateghi, formidabili guerrieri, sta allungando piano piano le sue grinfie su tutte le terre conquistabili. Questo significa che sono molto poche le città libere che si stanno facendo baluardo di una resistenza sempre più difficoltosa. E proprio per fronteggiare questo nemico in comune si è formata un'alleanza, ovvero l'unione di tutte quelle città libere di cui stavamo parlando, che si sono unite sotto una stessa bandiera e che hanno messo insieme i loro eserciti per ostacolare e fermare l'avanzata dell'impero Malazan. Questo contesto di cui vi ho parlato è un grandissimo fermo immagine da cui tutto comincia. La premessa dietro Malazan è questa e di conseguenza dopo questa premessa si vanno a intrecciare tra loro diversi personaggi che vanno a raccontarci tutta questa immensa e mastodontica storia. Questo è il punto fermo di Malazan. Non ci sono altre certezze da cui è facile cominciare a ingranare con Malazan. Questo è quello che posso dirvi senza andare nello spoiler, diciamo. La prima cosa che mi viene da dire pensando e parlando di Malazan è che è una di quelle saghe fantasy che io non mi sentirei mai di consigliare a tutti a 360 gradi per una lista infinita di motivi. La prima è che sicuramente Malazan è forse anche uno degli aspetti più affascinanti, in verità, è una di quelle saghe fantasy che è difficile effettivamente incasellare in un determinato sottogenere del fantasy. Viene venduta sul mercato come un epic fantasy e ovviamente ci sono tantissimi elementi all'interno di questa saga che sono propri dell'epic fantasy ma dall'altra parte Erickson mette all'interno di questa storia tantissimi altri sottogeneri diversi. Ci sono tantissimi aspetti all'interno di questa saga che riprendono a piene mani da quello che è il Grimdark quindi l'essere così violento, così crudo, così sleale in alcuni punti ma tantissimi altri aspetti che riprendono dal fantasy militare o di guerra che il dir si voglia. Quindi diciamo che è un connubio di sottogeneri diversi che rendono effettivamente le varie storyline che noi andremo a seguire molto molto dinamiche e questo credo che sia, come vi dicevo, uno degli aspetti che mi ha soddisfatto maggiormente perché all'interno di Malazan tutto cambia in continuazione c'è un grande movimento e questo dinamismo della storia effettivamente la rende molto più affrontabile perché dall'altra parte è una delle saghe fantasy più complesse e difficile che io mi sia mai ritrovato a leggere. Il punto è che Steven Erikson mette sulla bilancia una sequenza di dinamiche situazioni, avvenimenti che nell'effettivo possono in qualche modo destabilizzare il lettore perché ci sono tantissime cose che ci vengono dette, tantissime informazioni quindi mi sento di dire che quella di Erikson è una di quelle saghe che devono essere lette con un'attenzione molto particolare perché se sfugge qualche elemento, ecco, questo potrebbe in qualche modo andare a inficiare sulla comprensione effettiva di quello che stiamo leggendo quindi tutto quello che Erikson ci dice, ci fa conoscere piano piano all'interno del mondo di Malazan è fondamentale per capire appieno di cosa stiamo parlando e il fatto che tutto inizia in Medias Rest, tutto è al centro dell'azione Steven Erikson ti butta all'interno di questa storia senza darti nessun tipo di elemento ti fa conoscere una valanga di personaggi, di situazioni che sono messe in moto da tantissimo tempo ecco, tutto questo sono degli elementi che ovviamente richiedono una concentrazione molto particolare per cui moltissimi lettori potrebbero non essere avvezzi a questo tipo di letteratura in cui effettivamente si richiede una concentrazione fuori dal comune che potrebbe essere anche snervante per molti perché la lettura di un libro fantasy magari significa evadere ma in questo caso con Erikson non mi sento di dire che sia una lettura di evasione nel modo più assoluto possibile è una lettura che richiede una concentrazione davvero maniacale se si vuole capire la storia, i personaggi, ciò che fanno, quelli che sono i loro propositi cominciamo proprio da quello che è il world building e la magia il world building è forse una delle cose più interessanti all'interno del mondo di Erikson come vi dicevo inizialmente l'idea dietro questa storia nasceva con l'essere un gioco di ruolo e se vi è mai capitato di giocare a Dungeons & Dragons e poi leggere appunto la saga di Malazan noterete effettivamente che l'impostazione di tutta la storia è propedeutica ai giochi di ruolo si è sempre la sensazione di star ascoltando il master che ci racconta la storia e questo può essere sia una cosa molto positiva ma anche negativa sotto un certo punto di vista nel senso che alcune dinamiche di giochi di ruolo secondo me non vanno effettivamente a favore di questa storia come per esempio personaggi che sono estremamente a servizio in alcuni casi della storia e di alcune situazioni che si vanno a sviluppare ovvero si hanno dei casi in cui il personaggio X fa un incontro oppure utilizza uno strumento per procedere alla missione, avere più indizi e che possono essere quasi percepiti come un Deus ex machina ecco questo effettivamente è una grande formula della scrittura di Erickson che ripeto può essere positivo che negativo dal mio punto di vista è una cosa che io ho trovato estremamente appagante in alcuni punti in altri forse è meno di uscita perché si vede effettivamente che c'è una forzatura in questo soprattutto in questo primo volume dall'altra parte però ci sono tantissimi aspetti che mi hanno lasciato di stucco leggendo Malazan e che ti fanno immaginare questo mondo con un impatto e una potenza davvero disarmante ti rendi conto fin dal primo momento che stai leggendo di un universo davvero ampissimo con una gamma di personaggi e situazioni che sono praticamente infiniti e sempre da conoscere e da capire e da comprendere e sembra quasi che non si arrivi mai al punto della situazione ma piano piano Erickson ti porta a capire ciò che cosa sta succedendo ti dà sempre quegli indizi ulteriori per comprendere sempre di più le azioni dei personaggi e le azioni che muovono questo mondo uno degli aspetti più interessanti è sicuramente il world building creato e dall'altra parte anche la magia prima di tutto il world building che è da una parte molto semplice per un fantasy quindi ci sono effettivamente tanti elementi canonici che è possibile trovare in un fantasy ma dall'altra parte è così pregno di elementi e di dettagli che riesce ad essere davvero immaginifico riesci a essere catapultato all'interno di questo mondo ed è un mondo che è molto viscerale è molto vivo è un mondo che viene descritto con una crudeltà e una violenza da parte di Erickson che io ho trovato davvero molto molto appaganti e che riescono appunto a darti proprio l'idea del contesto che questi personaggi stanno vivendo e affrontando il world building ti offre tantissimi spunti davvero tantissimi spunti il fatto che molto sia dovuto ai giochi di ruolo va anche a darti degli scenari molto diversi sia per quanto riguarda le ambientazioni che per quanto riguarda poi effettivamente tutta la mitologia tutte le creature, le razze insomma Erickson mette tanto all'interno di questa storia ma tutto sembra essere perfettamente cucito anche se in alcuni passaggi risulta essere un po' meccanico in qualche modo però se sei attento e riesci effettivamente a seguire il flusso della storia ecco ti dà una sensazione di appagamento incredibile dall'altra parte poi c'è il sistema magico che forse è uno degli elementi più interessanti e curiosi della saga di Malazan perché effettivamente alla base della saga di Malazan c'è un sistema magico fortemente elementare classico del genere ma la cosa più affascinante è riscoprire in questa classicità del sistema magico una complessità e un'ampiezza che è molta di più di quella che inizialmente viene lasciata immaginare da parte dell'autore e che nel contesto in cui viene inserita è A. Perfettamente coerente e bilanciata e B. Ha quel barlume di originalità che la contraddistingue notevolmente rispetto ad altri sistemi magici presentati in libri del genere è anche vero che questo sistema magico almeno in questi primi due volumi trova i suoi limiti nelle effettive spiegazioni che Erickson ci dà un esempio è Brandon Sanderson che voi lo sapete io considero i suoi sistemi magici alcuni tra i più originali e sorprendenti mai proposti negli ultimi anni in qualsiasi saga fantasy ecco Sanderson ti lascia percepire la vastità e la complessità di un sistema magico piano piano ti fa scoprire sempre qualcosa di nuovo collegato al sistema magico e alla fine tu ti ritrovi con tutti gli elementi che compongono questo sistema magico e riesce sempre ad essere perfettamente chiaro complesso ma allo stesso tempo estremamente coerente e lineare ecco questo in Erickson non succede effettivamente infatti nonostante il sistema magico riesce ad essere dirompente e fortemente presente all'interno della storia non si pone mai veramente l'accento su come esso funzioni fino in fondo quindi non si va mai a dare un quadro completo e perfettamente chiaro di quello che è il sistema magico viene più che altro proposto al lettore con quel senso di naturalezza interiorizzata che comunque riesce a funzionare perfettamente e anzi riesce a incuriosirti sempre di più l'effettivo funzionamento l'effettivo limite della malagia all'interno di Malazan non è mai strettamente necessario perché comunque nonostante tutto nonostante non sia mai perfettamente lineare chiaro, preciso comunque funziona e va dritto al punto e personalmente come vi dicevo almeno da questi primi due volumi a me è sembrato che a Erickson non interessa effettivamente dare una spiegazione precisa di quello che è il sistema magico e di come la magia funziona la magia è uno strumento e penso che Erickson sia più interessato a capire come la magia venga utilizzata e come chi la utilizza poi va a cambiare le sorti di quello che veniva proposto inizialmente e questo secondo me è un fattore molto interessante perché in moltissimi fantasy si pone l'accento appunto su quello che è il sistema magico e anzi in molti casi è proprio il punto di forza in Erickson con Malazan ho visto una cosa opposta ovvero che mi sembra che lui sia più interessato a vedere come questi personaggi che lui mette in scena utilizzano questi strumenti per i loro scopi e quindi diciamo che appunto la magia è proprio quello strumento necessario per comprendere le azioni di chi le utilizza non so se mi sono spiegato ma secondo me è un concetto molto interessante che quindi dall'altra parte non necessita di una spiegazione effettiva e chiara del sistema magico dicevamo quindi i personaggi i personaggi sono un'altra delle cose che andando avanti mi hanno sbalordito maggiormente nel senso che come vi dicevo solo in questo primo libro Erickson ci fa conoscere ci presenta innumenevoli personaggi ne sono tantissimi e questi personaggi hanno delle storyline personali e poi seguono una macro trama diciamo e hanno interazioni e dinamiche con tantissimi personaggi diversi molti di questi personaggi non si conoscono anzi sono in luoghi completamente diversi quindi diciamo che c'è un movimento molto particolare per quanto riguarda i personaggi anzi addirittura in questo secondo libro ce ne vengono presentati tanti altri che qui nemmeno venivano nominati e anzi in questo secondo volume alcuni dei personaggi conosciuti qua nemmeno ci sono quindi per dirvi quanto effettivamente sia immenso il dramatis persone proposto da Erickson ora la cosa che mi ha sbalordito di più per quanto riguarda i personaggi è che inizialmente ci vengono proposte quasi con una freddezza meccanica nel senso che molti di questi personaggi noi li conosciamo che sono già nel vivo della loro storyline quindi non vediamo cosa gli dà il là cosa gli dà la forza e la spinta per andare avanti qual è la loro missione non la vediamo fin dall'inizio ma sono già avviati quindi noi li conosciamo nel bel mezzo dell'azione inizialmente questo mi ha dato un senso di smarrimento sicuramente perché sono tanti personaggi che seguono tante storyline quindi è molto complesso stargli dietro e capire chi fa chi come sono effettivamente collegati quale sono le loro dinamiche e le loro relazioni ma poi a un certo punto tu lettore cominci ad avere una consapevolezza di questi personaggi che è davvero incredibile riesci a capire perfettamente di chi si sta parlando quali sono le cose che ha fatto e quelle che deve fare quali sono le sue relazioni come si muovono e ti dà un senso di conoscere questi personaggi a 360 gradi e nonostante quindi la quantità di questi personaggi Erickson riesce a renderli tutti mano a mano profondamente riconoscibili e familiari si ha un senso di familiarità con questi personaggi per cui la loro causa potrebbe diventare anche la tua voglio farvi un piccolo esempio che potrebbe sembrare una digressione ma per farvi capire l'impatto che la saga di Malazan e alcuni dei personaggi ha avuto su di me sia come lettore ma anche da un punto di vista più personale a un certo punto della storia Erickson ci presenta un nuovo personaggio che si chiama Crocus è un giovane ladro e dovete sapere che forse nei libri fantasy la figura del ladro è una di quelle che io trovo più affascinanti anche quando giocavo a Dungeons & Dragons effettivamente il mio personaggio era un ladro si chiamava Loc la mora Crocus è un personaggio con cui ho avuto un imprinting immediato e questo le sue avventure il modo in cui Erickson me l'ha proposto ha fatto cominciare ha avuto su di me un impatto tale per cui ho cominciato a scrivere di questo personaggio che mi ero immaginato ispirandomi al personaggio di Crocus vedendolo in azione piano piano conoscendolo sempre di più mi sono sentito così tanto parte della sua storia che mi ha dato poi l'ispirazione di creare un personaggio tutto mio non c'entra assolutamente niente ma questo per dirvi che i personaggi di Erickson hanno una forza tale da essere quasi di ispirazione per me è questa la portata dei personaggi di Erickson li ho trovati chi più e chi meno ovviamente sorprendenti anche perché sono diversi e anche ciò che muove questi personaggi effettivamente nonostante magari alcuni siano uniti da un fronte comune quindi hanno una missione unitaria dall'altra parte però li muove tanto altro cioè sono veramente imponenti questi personaggi e per me anche questa è una cosa che ho trovato davvero incredibile ripeto sbalorditivo un altro aspetto della saga di Malazan ovviamente sempre rimanendo nella lettura di questi due volumi che devo dire mi ha colpito tantissimo sono i temi trattati perché sembra che per Erickson il scrivere una storia fantasy sia come molto spesso accade in verità semplicemente una scusa per raccontare quella che è la società e la civiltà e questo ovviamente va a toccare tutti gli elementi che normalmente possono comporla sia per quanto riguarda un contesto rivolto più alle emotività quindi quello fatto di sentimenti di amicizia i rapporti personali tra i personaggi le motivazioni che li spingono ad affrontare la vita o la morte e dall'altra parte invece tutta quella sfera più intrinsecamente politica e istituzionale e dall'altra parte tutta quella sfera che va a toccare gli aspetti più politici e istituzionali di questo mondo e che ci portano ovviamente agli intrighi alle alleanze alle guerre alla supremazia di alcune civiltà su altre e quindi di conseguenza la sofferenza la crudeltà la disillusione che questo comporta credo che Malasian sia un romanzo che parla moltissimo di disillusione umana ovviamente e credo che questo gli aspetti e i temi trattati da Erickson siano effettivamente una matrice fondante di questa storia che si sentono essere parte viva e fondamentale e tutti questi temi che magari possono essere più appunto crudi e violenti vanno poi di conseguenza come dicevo inizialmente a toccare anche quello che è il tono Erickson ha un occhio molto particolare nella sua prosa e nella sua scrittura che io ho trovato estremamente coinvolgente che mi ha conquistato dalla prima pagina effettivamente va a raccontare sì di un mondo crudo malvagio estremamente violento disonesto in cui ci sono personaggi quindi delle persone che effettivamente commettono atti atroci che vanno a ostracizzare che vanno a portare sofferenza e credo che uno degli aspetti più riusciti nella scrittura e nel tono di Erickson è che riesce sempre a trovare un tono un equilibrio estremamente bilanciato si va sì a raccontare una storia cupa una storia cattiva diciamolo ma allo stesso tempo queste riflessioni diciamo più cupe non tolgono mai spazio a momenti invece più divertenti dovuti a un'ironia estremamente spiccata di alcuni personaggi quindi c'è sempre questo equilibrio in cui situazioni estremamente complesse e difficili e appunto cupe hanno uno spiraglio di luce con invece momenti più esileranti divertenti e godibili rimanendo quindi sulle tematiche trattate da Erickson una delle più interessanti e secondo me riuscite è proprio quella dell'identità culturale soprattutto quando si parla di supremazia e importanza di una cultura o di una razza o di una civiltà rispetto ad un'altra ed è un discorso che viene portato sul piatto molto spesso diciamo che è effettivamente il contesto di cui parlavamo inizialmente tutte queste guerre gli scontri le battaglie sono dovuti proprio a questa identità culturale che viene ostacolata ma che allo stesso tempo viene anche difesa e un altro aspetto profondamente riuscito è il tono tragico che va a influenzare fortemente tutte le storyline e le dinamiche tra i vari personaggi la tragedia dietro Malazan viene percepita costantemente come un tunnel buio nero senza via di uscita ma nonostante questo nonostante la sofferenza la crudeltà la violenza nonostante l'ingiustizia e le minacce si respira sempre e comunque il tono di speranza quella speranza che è indispensabile per andare avanti quella gioia che mi viene da dire dovrebbe essere ricercata nelle cose più piccole e marginali che ci sembrano più piccole e marginali ma che in verità non lo sono e che nel buio appunto sono una grande luce che invece potrebbero darci la via ecco questo è un altro di quei temi all'interno di Malazan che sono preponderanti collegato a questo è anche molto interessante vedere il viaggio interiore di questi personaggi il loro cambiamento viaggi di scoperte riscoperte che molto spesso magari hanno a che fare con la perdita dell'innocenza in un mondo pieno di avversità sicuramente una delle cose che mi ha conquistato di più all'interno di questi due primi libri è l'intelligenza chirurgica di Erickson nel raccontarci questo mondo questa storia questi personaggi e queste tematiche un'intelligenza che si nota tantissimo con l'andare avanti della storia soprattutto in questo secondo libro in cui effettivamente la complessità rimane ma è una complessità che viene gestita con una maturità ulteriore il problema dei giardini della luna è che secondo me è un libro in cui effettivamente magari molte volte si può cadere per una gestione non proprio perfetta di Erickson nella raccontarti e mettere in fila tutti gli avvenimenti quindi magari ci si può perdere qui ho notato effettivamente una maturità nella storia e appunto anche nella nella narrazione di Erickson veramente molto molto più profonda quindi ovviamente la curiosità di andare avanti e vedere come tutto appunto proseguirà è altissima quindi avviandoci alla conclusione consiglio la saga di Malazan ovviamente come forse avete già capito intuito ovviamente sì la saga di Malazan almeno in questi due primi libri quindi la mia idea può cambiare nel corso della lettura della saga ma per ora è una delle saghe fantasy più interessanti complesse intricate e perfettamente costruite che io abbia mai letto mi rendo conto non essere assolutamente una saga per tutti nella maniera più assoluta sia per quanto riguarda le tematiche trattate perché ripeto c'è una certa violenza e crudeltà nel raccontare questa storia quindi magari se siete più sensibili diciamo che alcune scene sono piuttosto grafiche rimangono piuttosto impresse devo essere sincero Erickson poi calca molto su alcune scene davvero molto molto visive che rimangono davvero impresse dall'altra parte però proprio per la complessità della storia che ci viene raccontata è una saga che ripeto come dicevo inizialmente richiede attenzione da parte del lettore quindi se siete quei lettori che in un fantasy cercate esclusivamente l'intrattenimento puro e il rifugiarsi in un mondo fantastico ecco direi che Malazan forse non è proprio la saga fatta per voi e non è nemmeno la saga che consiglierei a chi si trova le prime armi con il fantasy assolutamente no per chi invece magari conosce già il fantasy ed è pronto da affrontare una storia effettivamente su un altro livello rispetto a tante altre allora assolutamente sì Malazan dei caduti è assolutamente da leggere e io non vedo l'ora di continuare e scoprire che cosa succederà poi con i successivi libri detto questo ragazzi io spero di essere stato il più coinciso possibile anche se ne dubito fortemente sono molto curioso di sapere la vostra opinione su Malazan se l'avete letta e se non l'avete letta vi incuriosisce cosa vi aspettate magari sono comunque pronto a qualsiasi domanda nei commenti quindi io spero che il video vi sia stato utile che vi abbia intrattenuto e che vi abbia fatto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti